E oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS che ha fatto finora 35 milioni di vittime. 38 milioni di persone convivono attualmente con l'infezione nel mondo, due terzi sono in Africa. 700 mila morti l'anno scorso, 500 in Italia. Nel nostro paese 2.500 le nuove diagnosi. Contagi che calano grazie alla prevenzione ma aumentano le diagnosi tardive. E a quasi 40 anni dalla scoperta del virus è entrato in fase 3 di sperimentazione un vaccino internazionale. Test anche allo Spallanzani di Roma. Ma perché è stato così difficile arrivarci? Claudia Pregno. Più o meno entro un anno ci sarà un vaccino, disse Robert Gallo, il virologo immunologo americano, che nel 1982 scoprì l'origine retrovirale dell'AIDS ma a distanza di quasi 40 anni. Il vaccino ancora non c'è. Due le principali difficoltà. La prima, l'alta variabilità del virus. Muta sia spontaneamente che per altri stimoli esterni, per esempio la pressione farmacologica, le condizioni ambientali, le caratteristiche dell'ospite. Per cui è molto difficile, diversamente da altri virus che invece hanno un corredo genomico molto stabile, riuscire a costruire un vaccino che sia stabilmente efficace. La seconda, i pazienti con AIDS non guariscono spontaneamente, il virus non scatena una risposta immunitaria efficace, lo stesso motivo per cui è stato difficile formulare un vaccino che ora forse a Darward negli Stati Uniti hanno trovato. La tecnica di costruzione si basa sui vettori virali. È un adenovirus umano che viene modificato, depotenziato, quindi reso inoffensivo, non replica, non infetta. Quindi diventa un involucro, come una navicella, all'interno del quale si inseriscono delle parti genomiche che servono per esprimere le proteine di HIV contro cui si intende sollecitare la risposta immunitaria. È un vaccino complesso, infatti si chiama mosaico e oltre al vettore virale, per evocare la risposta immunitaria, utilizza proteine. Sono le proteine dell'emvelope, cioè dell'involucro più esterno del virus, che vengono composte intorno al virus ricombinante. Dopo i buoni risultati delle fasi 1 e 2 che attestano sicurezza e capacità di produrre la risposta immunitaria, ora si è passati con lo studio randomizzato alla fase 3. Coinvolte 3.800 persone in vari continenti, tra cui lo Spallanzani, sperimentano il vaccino. Andremo a dare quattro dosi di questo vaccino, al tempo zero, dopo tre mesi, dopo sei mesi, dopo dodici mesi. Dopodiché ci sarà un'ulteriore osservazione di ulteriori 18 mesi, si arriverà quindi a 30 mesi complessivi di osservazione, alla fine del quale si potrà dire se il gruppo vaccinato si infetterà meno di HIV rispetto al gruppo non vaccinato. Intanto funzionano molto bene le terapie contro l'HIV. Oltre 20 farmaci antiretrovirali a disposizione hanno consentito di trasformare una malattia rapidamente progressiva, come era negli anni 80-90, in un'infezione cronica come quella attuale. Prolungando la supervivenza delle persone e riducendo la trasmissione e la circolazione del virus. Gli rettori di tutte le...